Isola dei famosi, con Alessia Marcuzzi c'è anche la Jalapas Isola dei famosi news e anticipazioni, ci saranno anche quelli della Jalapas band. Tutto pronto per il ritorno dell'Isola dei famosi 2018. La data di partenza è fissata lunedì 22 gennaio e rispetto agli scorsi anni c'è una novità che sicuramente fa piacere, la presenza della Jalapas band. Dopo l'ultimo successo riscosso all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, Mediaset ha deciso di inserire il trio comico pure nel reality show Isolano. Come rivela Spai in anteprima nell'ultimo numero in edicola, la Jalapas interverrà in diretta seguendo lo stesso schema già visto al GF Vip con Ilari Blasi. Dunque, non mancheranno risate e tanto divertimento. In studio ci saranno poi nuovi opinionisti, Mara Venier e Daniele Bossari. . Per la prima si tratta di un ritorno dopo un anno di pausa, mentre il secondo ha accettato il ruolo subito dopo aver lasciato la casa di Cinecittà. . Il nuovo inviato è invece Stefano De Martino, che prende il posto di Stefano Bepparino. Cast completo e ufficiale dell'Isola dei Famosi 2018. . Chi saranno i naufraghi dell'Isola dei Famosi? Il cast è stato ufficializzato e nel gruppo ci sono tante certezze che si rincorrevano da tempo ma pure delle sorprese. . La lista completa . Al gruppo si unirà nel corso della prima puntata un personaggio non famoso, scelto tramite il web format Saranno Isolani. . Inizio e finale, l'Isola parte il 22 gennaio e finisce il 9 aprile. . La finale dell'Isola dei Famosi è prevista per lunedì 9 aprile. Chi sarà l'erede di Rats Dagan?. . . .